Ore di campione pieno di energie Il sport di Ceno Game ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio siamo pronti a brillare E Studio 7 e TV ci guida ad ogni passo Ad ogni sfida da affrontare Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito non si rende mai Sport di Ceno Game e Studio 7 e TV L'intervista di Pietro, un cuore di un campione Ogni atleta ha una storia, ogni momento è un'emozione Con coraggio e con determinazione Studio 7 e TV e Sport Piceno Game presentano L'intervista di Pietro, ospite della puntata Benvenuto a una nuova puntata, abbiamo ospite una band Ospite tutta la band, clamorosamente ma abbiamo tutta la band La apnea A questo punto la prima domanda sorge spontanea Se dovessi descrivere oggi chi sono le apnea Come le iscrivesti? Apnea è una band che si è conosciuta diversi anni fa In realtà ci conoscevamo già, eravamo degli amici ma non avevamo mai suonato insieme Abbiamo avuto esperienze diverse Il caso ha voluto, veramente il caso Ci ha fatto incontrare a livello musicale Ed è nata una cosa fin da subito A nostro avviso speciale Ci siamo trovati Abbiamo subito sentito un'alchimia particolare tra di noi a livello musicale E abbiamo deciso di iniziare questo progetto di Brani Inediti Musica nostra Quindi inizialmente sì come quasi passatempo Invece poco dopo ci siamo resi conto a nostro avviso Che quello che stava uscendo ci piaceva molto Ed era sprecato lasciarlo cadere così qualche volta al mese Abbiamo deciso quindi di iniziare con costanza A portare avanti questo progetto musicale Che ci ha dato e ci sta dando molte soddisfazioni A questo punto io intendo parlerei dell'ultimo lavoro Che è un'uscita di queste ore Quindi parliamo di un brano proprio fresco fresco Che alcuni già hanno scaricato e comunque ascoltato Amara Questo brano come nasce da cosa avete tratto ispirazione Come nasce, come si è sviluppato Per poi ottenere il risultato finale Amara è un brano direi oserei dire particolare Perché ho raccontato L'ho scritto io E ho raccontato una mia esperienza personale La storia mia e di mia moglie Un amore molto forte che è stato colpito a un certo punto Da una malattia altrettanto importante E quindi mi sono spogliato E ho raccontato in maniera sincera quello che c'era successo A livello di scrittura A livello musicale Lo suoniamo già da diverso tempo Devo essere sincero Ma ultimamente l'abbiamo riarrangiato Con il nostro produttore Andrea May Di Macerata L'abbiamo rivisitato un po' E siamo riusciti a dargli Quel giusto groove Che desideravamo da tempo Quindi siamo arrivati a fine lavoro E siamo rimasti veramente contenti del risultato finale Se dovessi fare un sungo del brano Posso dire che Parlami ancora di te Può essere indicativo di tutto il brano? Sì Certo Sì E quando fate Scrivete le canzoni Nascono prima le parole Nasce un groove Un beat Oppure possiamo dire Che accidentalmente Si incontrano e nascono insieme Generalmente quasi tutti i brani li scrivo io Sono il batterista Andrea Compongo a casa con una chitarra acustica Nasce prima una traccia melodica Dopodiché se mi convince Vengo colpito da quello che è uscito Di seguito Inizio a prendere forma il testo Ma appena ho Un minimo di traccia E un abbozzo di testo Lo condivido subito Con tutto il resto della band Anche se la canzone non è finita Anche se mi è venuto un ritornello Un inizio Perché da lì Se piacciono tutti i componenti Se iniziamo a lavorare seriamente tutti insieme E il brano si veste poi Prende forma Prende forma E si veste Dei sentimenti Del supporto tecnico Di ognuno di noi E intanto parlando ancora di questo brano Che appunto gente sta appena ascoltando È una copertina dove il rosso e il nero Esprimono un po' con questo fiore Probabilmente rappresenta un po' l'anima Dello stesso brano Sì Amara Quindi Amara Si è vestita di rosso Il giorno del matrimonio Ma il rosso in realtà Non è solo il colore del vestito Ma la sua tenazza Nel non farsi abbattere da questa brutta malattia Nell'affrontarla Nell'affrontarla Quindi io rivedi lei il rosso Come colore primario E quindi Questo fiore si rappresenta Appunto Ovviamente c'è lo stacco rosso e nero Per dare un impatto forte visivo Ma oltre ad essere un fiore Ricorda anche una coda di un vestito Se lo si guarda bene Quindi è una coda che esce Quindi Volevamo cercare di simboleggiare il più possibile Con poche cose Dare la giusta importanza al brano Voi avete partecipato anche a Sanremo Quale ricordo Avete della manifestazione Parliamo di E che cosa vi ha portato dietro Poi Essere salito comunque su un palco Comunque Importante Perché Sanremo In quel periodo In quei giorni È il centro della musica italiana E che cosa va lasciato in voi Eh Se devo essere sincero La professionalità Che hanno Quindi Veramente È allucinante Si sosseguono gruppi O cantanti O singoli In una maniera talmente professionale A livello organizzativo Che veramente è una cosa allucinante Quello che è Quello che avviene dietro le quinte La preparazione Il pre E poi ovviamente Essendo così Schematica La preparazione Di tutti I partecipanti Quando arrivi Carico d'ansia Su questo palco In questo teatro Che tutti vediamo Alla televisione Ma in realtà Eserci lì sopra Dal vivo Possiamo garantire Che è tutto un altro effetto E lì Sinceramente E suoni solo un brano Devi Ci devi essere al cento per cento E non è semplice Perché Appunto L'emozione Fa da padrone Sì Però Bellissimo Veramente Tre minuti Che ti rimangono indelebili Molto intenso A questo punto Ah sì Essere lì Da quanto è imponente Tutto il contesto Insomma Non si fa tempo A realizzare Che Sei lì E stai facendo Quella cosa In quel posto Quindi Però ci siamo divertiti molti Quei tre minuti Abbiamo detto Ci divertiamo Andiamo Facciamo Ed è stato così Abbiamo dato tutto E ci siamo usciti Completamente zuppi In tre minuti Con un concerto di due ore L'altro ricordo è quello Che siamo usciti Con le magliette Tutte impregnate Di sudore In tre minuti Quindi L'adrenalina Di Van Pao Che poi tra l'altro Il brano si intitolava Adrenalina E invece E così Faremo parlare Anche tutte le altre parti Che ancora Non hanno parlato Qual è la vostra emozione La vostra sensazione Quando salendo sul palco Di fronte Se avete un pubblico Che comunque vada Inizialmente Prima è silenzioso Ma poi Quel silenzio Che poi parla Perché esprime qualcosa Cioè Energia Sentite l'energia Più che vederlo Perché a volte Il palco è illuminato Sotto è buio Però sentite Però sentite Quell'energia Che vi trasmette A quel punto Nonostante il concentrato Nonostante il concentrato Del brano Della concentrazione Comunque quando saliamo sul palco Noi ci trasformiamo Nel senso che comunque C'è talmente tanta energia Tra di noi Che ci guardiamo E suoniamo il brano E lo facciamo nostro Ancora di più Perché dal vivo Odiamo molto Poi comunque Quando c'è un pubblico Che appunto Ci segue tanta gente Quindi senti anche Cantare i nostri Ritornelli Le canzoni E logicamente Fai ancora meglio Cioè ti porta Comunque a paga E ti fa stare Stare bene Non pensi Che stai facendo Un'esibizione Come se fossimo A cena insieme Amici Sì Sì Questo è Vuole aggiungere qualcosa L'esterno che Lui è bassista L'esterno destro L'esterno destro Che non parla molto E Sensazione di interscambio Più noi siamo bravi A mettere a proprio agio Il pubblico Più il pubblico poi Ci rimanda Tutte quelle emozioni Che ci permettono Poi di creare Il giusto spettacolo Perché Lo spettacolo Si compone anche Molto di emozioni Anzi È la risultante Di tutto quello Che noi cerchiamo Di fare L'emozione Ecco E invece scendendo per al palco Vedere le facce Delle persone In cui hanno dedicato Tutto il tempo E non sono state Distratti da telefonini Da altre cose Ma hanno ascoltato E si presentano E si presentano con quel viso Rilassato Felice O triste Dipende dal momento In cui hanno capito E hanno fatto proprio La vostra canzone E vi Vi fanno un complimento Vi ringraziano Oppure vi dicono Qualche frase Forse Qualche citazione A quel punto La vostra reazione Di fronte a questo O vi chiedo Un po' Un selfie Magari No No Una cosa che ci capita Spesso E noi diciamo Sempre all'unisono Vale la pena Solo per quello Perché comunque La musica è bella Ma richiede Se Fatta in una certa maniera La musica Chiede tanto Chi suona Tempo E quant'altro La cosa che ci dicono A me ci capita Di sentire Vedere il segno Del braccio E sentirti dire Pelle d'oca Quando ci dicono così Capiamo che Vale la pena È la strada Giusta Stiamo percorrendo E stiamo facendo La cosa giusta E poi Riagganciandomi A quello che Ci hai chiesto prima La sensazione Di stare sul palco E Quando si scende Capisci veramente È il compimento Della serata Ovvero La risposta Che ti dà La persona Che ti viene a salutare Comunque Ti ringrazio Perché Ha passato Una piacevole serata Ha quel viso Soddisfatto Capisci Che la sensazione Che avevi Quell'alchimia Che si era formata Poco prima Mentre stavi suonando Era reale Quindi Raddoppia La soddisfazione Insomma Siamo arrivati Vuol dire Che sei arrivato E invece Nella vita Comunque Si è sempre fan Ognuno Ognuno Ha un fan Un artista Nel cuore Passare Da sotto il palco In realtà E incitare Quell'artista Comunque Assistere Per l'artista Ad essere Sopra il palco Ad suonare Per le persone Quindi avere Dei propri fan Comunque Con persone Che ti ascoltano Frequentemente Qual è la sensazione Nei due casi Come la vedete Le due sensazioni Molto particolare Cioè A mio avviso Ho avuto la fortuna L'anno scorso Di incontrare Per la prima volta Faccia a faccia La mia band Preferita E È stata Una sensazione È stranissima Perché Conoscendoli Da vent'anni E Avendoli visti Più volte Averli lì Sembravano Come delle persone Non reali Quindi non delle persone Ma loro sono la band Invece sono delle persone Comuni Come tutti noi Non so cosa si prova Dall'altra parte In realtà Cosa provano le persone Che ci vengono a vedere Sicuramente Non siamo Così popolari Così popolari Però È E la soddisfazione È vederli contenti A fine concerto Già è tanta Tanta roba Questa è la mia sensazione Sì sì ma anche la nostra Bisognerebbe chiederlo a loro E invece ci sono artisti In cui Un pochettino Involontariamente Anche involontariamente Avete portato un po' Dietro nel vostro Modo di lavorare Di suonare Di cantare Di atteggiamenti Comportamenti Sul palco Che nel tempo Vi siete portati Comunque Ancora Vedendovi Vi rendete conto Un pochettino Che Avete quegli atteggiamenti Quest'artista Comportamenti Non voluti Ma acquisiti Nel tempo Delle influenze Sicuramente Sì perché tutti Veniamo influenzati Comunque È inevitabile Da quella A cui ci ispiriamo Però Nel nostro progetto Siamo stati attenti A non Assomigliare A non farla facile A non andare A prendere Diciamo Idee O situazioni Già Già provate E vincenti Ma abbiamo cercato Di creare Qualcosa Non dico di nuovo Però Almeno Di nostro Ognuno Con Con le sue Preferenze musicali Unite Cercando di Di creare Un qualcosa Che non sia Un cliché Anche perché Sinceramente Quando Quando siamo sul palco Quando sono sul palco Mi giro E ci sono loro Con me E quella La situazione è quella Non si cerca Almeno io Non cerco niente Di Di Al di fuori Di qualcuno Magari da imitare O cosa Io mi giro Mi giro intorno E vedo loro E quindi siamo noi Siamo famiglia Ma sul palco Poi a voi Avete detto Che sul palco Mi muovete Ma siete un po' Stile Cioè siete un po' Statici Come un Renato Zero Che ormai Sta di fermo Oppure siete un po' Stile Infatti Quando si sale Sul palco Ognuno è libero Di esprimere Col corpo Anche quello Che non riesce A esprimere Con lo strumento Molto spesso L'intensità Ti costringe A scaricare Energie Muovendoti Perché altrimenti Non suoneresti bene Perché Metteresti Troppe Intensità Emotiva Nelle mani Ecco E allora Muoversi È proprio Propedeutico Per Utilizzare Il massimo Di quello Che puoi dare Perché anche Il corpo Parla molto Quando Si è sul palco E quindi È una cosa Che viene spontanea Poi logicamente Abbiamo dei brani Un pochino più melodici Più ballate Quindi La culli Diciamo Con il movimento Del corpo E poi abbiamo Dei brani energici Dove Cioè tipo Io salto Ballo E comunque Ci si muove di più Abbiamo Brani Sia melodici E balla Che Più energici Potenti Però comunque Niente di preparato Tutto viene spontaneo Al momento Tutto live Tutto live Tutto live Pensa che succede Delle volte Quando si è messa La prova Quindi magari Prepariamo una scaletta Per un concerto Dopo due o tre prove Qualcuno dice Ragazzi Siccome Lì si è attenti A fare bene Perché si preparano Uno spettacolo Se vuole Alzate un po' Di più la testa Non state troppo Concentrati Poi quando siamo Sul palco Sparisce tutto E lì si va Chi c'è c'è Non è nulla Preventivato A livello di movimenti O di emozioni Che poi scattoliscono In quell'esatto Momento Perché tu provi In sala prove Ma poi quando Come dicevamo prima Quando stai su un palco E hai persone davanti Che cantano le tue canzoni E il pubblico Conteguisce Alla riuscita Della serata E il risvolto È totalmente diverso Però io direi Che il troppo È come il poco Se Non voglio peccare Però se Quando riguardo I nostri concerti Devo dire la verità Non siamo Né statici Sul palco Ma nemmeno Ci muoviamo Enfatizziamo Troppo Perché poi Dai la viviamo E cerchiamo di comunque Muoverci in maniera spontanea Per le sensazioni Che ci trasferisce La musica E il pubblico Ecco A questo punto La domanda viene Più spontanea Nei tuoi confronti E una volta Che hai finito A scrivere il brano Che l'avete registrato Quindi parliamo Del prodotto finale Quando l'hai fatto ascoltare Per la prima volta E effettivamente A chi Era destinato In senso lato Questo brano Che cosa ha fatto Soprattutto il suo viso Qual è stato E la sua sensazione Che tu poi Hai recepito Se parliamo di Amara Il singolo Che è appena uscito Sì L'abbiamo ascoltato insieme Glielo ho fatto ascoltare Ero presente anch'io E la C'è stata un'emozione Ci siamo messi a piangere Perché comunque L'emozione La descrizione del brano Rispetto a quello Che ci è successo Era talmente forte Che la reazione È stata quella L'emozione La commozione E invece Altri musicisti Che ci vengono ad ascoltare Ci danno dei loro pareri Logicamente prendi il buono Siamo quasi Forse più noi Quando vediamo Che conosciamo queste persone Che sono musicisti Che ci cerchiamo proprio Molto più di noi Musicisti Insomma Studiare Andiamo a musicare Che ci vediamo proprio Comunque commenti Soprattutto sempre positivi Cioè commenti negativi Ma anche perché poi Quando ci esprimiamo live Si vede Che ci dicono tutti Si vede Cavolo Che lo fate proprio Che suonare Che lo fate Con voglia Con passione Che ripeto Quando saliamo sul palco C'è tipo una trasformazione Perché prima siamo tutti Un po' tesi E poi saliamo su Si accendono le luci Andiamo In studio di registrazione È difficile Dare quella resa Perché Perché hai tanti Paletti diversi Da Su cui Doverti muovere Live Siamo più liberi Quindi E quindi Chi l'ascolta prima Chi ascolta le nostre canzoni Diciamo Dalle produzioni E poi ci viene A sentire Rimane piacevolmente E sorpreso Perché Sente una carica Viva In più Che Diamo Quando Siamo lì E arricchiamo Le canzoni Del resto Siamo una band Se non fosse così Esatto Ci sarebbe qualcosa Che non funzioni Tu hai citato Prima una band Che è conosciuto Quale band Perché poi Non l'hai citata Che band è No Eravamo a cena insieme Poi nel tavolo vicino Era ben prezioso Perché Marlene Kunz Verranno a suonare Hanno suonato vicino Qui A San Benetto Mi pare Poco tempo Poche giorni fa E a questo punto Senza spoilerare Come Che il video Nascerà Verrà pubblicato Tra qualche giorno Perché In queste ore È uscito il singolo Poi Tra qualche Tra circa Dieci giorni Uscirà anche Il videoclip Da chi nasce L'idea di questo videoclip Da cosa è stato Ispirazione Se avete collaborato Anche nella stesura Del 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 progetto Sì Diciamo che Videomaker E chi scrive la storia Il suo collaboratore Ormai Lavorano con noi In pianta stabile Da diversi singoli Che abbiamo pubblicato Quindi ci conosciamo bene E c'è una buona intesa Lavorativa In questo caso Amara Il video doveva essere Un video molto descrittivo E lo volevamo Fortemente descrittivo Che raccontasse La storia In maniera descrittiva Niente da strato Niente effetti speciali No Doveva E questa era Una nostra idea Di fondo principale Su cui abbiamo iniziato A lavorare Abbiamo trasmesso A coloro Che hanno collaborato Con noi Il video doveva essere Descrittivo In base alla storia Gli abbiamo raccontato Tutta la storia Realmente accaduta Ovviamente E poi ovvio Che loro Essendo professionisti In quello che fanno Ci hanno messo Del loro Ce l'hanno riscritto Ci siamo confrontati Abbiamo sistemato Delle cose Per poi arrivare Al prodotto finale Che insomma Do spoilerare Al prodotto finale Che no no Comunque A nostro avviso È un lavoro Anche quest'ultimo lavoro È un ottimo lavoro E a questo punto La domanda Perché questo periodo Va di moda Gettonata Voi pensate Che l'intelligenza artificiale Possa Danneggiare O creare Qualche problema A livello musicale Visto che Scrivendo un piccolo testo Riesce a comporre Scrive le canzoni E cantarle Nell'arco di un minuto e mezzo In studio di registrazione Il nostro produttore Ci ha fatto ascoltare Per gioco Un paio di brani Che ha creato Con l'intelligenza artificiale Dandogli Tre parole Quattro Tre, quattro parole chiave E Da non credere Da non credere Potremmo smettere tutti domattina Ecco Ma non lo faremo noi È una cosa La teniamo per quando Non riusciremo a farlo Di nostro pugno Le tre parole chiave Quando riuscivamo a parlare A malapena Ci affideremo A questa nuova tecnologia Noi per adesso Continuiamo così Poi Mi sono dimenticato Una cosa fondamentale Perché apnea Effettivamente Non ve l'ho chiesto Però Mi è stato già chiesto Tante volte A questo punto Anch'io Mi unisco a questa scia Di chiedere perché apnea Il nome nasce Per Diciamo Cristallizzare Una La situazione Che ci ha fatti conoscere Cioè Era Era il momento in cui Musicalmente Eravamo Tutti in apnea Artisticamente Eravamo un po' in apnea Ognuno Aveva dirottato Le proprie energie Le proprie forze In altri ambiti Poi Come dicevamo prima Un po' per caso Un po' Soprattutto per caso Un po' per fortuna Quando ci siamo Trovati Abbiamo conciato a rispire Ci siamo accorti Che Si poteva uscire Da questa apnea E Volevamo Volevamo Ricordare Questo momento Perché Perché È È stato importante Per noi Ci è ridato Una nuova linfa Sia musicale Che vitale Devo dire Ecco A questo punto Parliamo di progetti futuri Oltre che Chiaramente Momenti live Perché Ovviamente Si torna tutti La live Dopo Una grande Un grande periodo Di pandemia Che ha Danneggiato Un po' tutti Oltre ai live Ci sono progetti Altri Oltre a promuovere Chiaramente Il singolo Beh Progetti ce ne sono Non è semplice Realizzarli Ma Appunto Sta uscendo Mara E abbiamo Sta uscendo Scusami Perché ancora È uscita Mara E Abbiamo altri Brani Pronti E già Mixati E prodotti E Quindi Sicuramente Uscirà un EP A breve Che li racchiude E Sicuramente Sì Ci sono già tanti Altri brani Che non sono stati Ancora incisi Che abbiamo Pronti Che seguiranno Poi il filone Prenderanno Un altro filone E Stiamo In questi giorni Definendo un po' Il calendario Dei live Quindi ancora C'è qualcosa In sospeso Qualcosa Già confermato Però stiamo Cercando Stiamo tirando Un po' Le file Insomma E poi le cose Evolvono Evolvono Scusa Giorno Dopo giorno Certo Molto Quindi Pronti Per tornare Sul palco Da domani Insomma Volendo E invece A questo punto Questo EP Che poi Parliamo di Siamo comunque Nella parte autunnale Perché chiaramente Oggi Questi giorni Queste ore È uscito il singolo Quindi Parliamo tra due mesi Il nuovo singolo E quindi Nella periodo autunnale Probabilmente Parliamo di EP Ma La domanda Noi Avremo Un formato Fisico Oppure E chiaramente Sarai perso Nel Digitale Avremo di tutto Per farlo fisico Sì Sicuramente Anche una Una piccola Perché non Siamo ancora Questi artisti Così affermati Ma sicuramente Anche una piccola Tiratura In vinile È una cosa Che ci stendiamo molto Quindi Per i nostri fan Fedeli Fedeli Ci metteremo in coda Ad aspettare In vinile Quindi Anche noi Ci metteremo Lì Ad aspettare In vinile Quindi Intanto Allora Intanto Noi vi ringraziamo Per essere stati ospiti Però ci diamo appuntamento A Fine estate Quindi Con l'inizio Dell'autunno Per Raccontarci Tutto il periodo Live Dell'estate A questo punto Mancano solo Due cose fondamentali Gli indirizzi Dove potete raggiungere E non Gli indirizzi Di casa Perché qualcuno Mi ha detto Volevo dire Gli indirizzi Di casa E i saluti Finali Bene Gli indirizzi Allora Ci trovate Ovunque Come Instagram Facebook Youtube Dovete cercare Apnea Page Tutto attaccato Perché purtroppo Il dominio Apnea È già Occultato E Comunque Ovunque E ovviamente Le piattaforme principali Quindi Deve ascoltarci Spotify Amazon Music iTunes Apnea Siamo lì Ovunque A questo punto Di saluti finali Di tutta la band Noi siamo Gli Apnea Vi salutiamo Speriamo che Abbiate l'opportunità E la voglia Di ascoltare Questo Singolo Appena uscito E non solo Anche gli altri Che sono usciti In precedenza E magari In un prossimo futuro Vedervi tutti Sotto il palco Io sono Francesco Bassista Marco Chitarrista Andrea La batteria Io sono Alessandro Alla voce Luca Chitarra E noi siamo Gli Apnea Noi tutti Siamo Gli Apnea E vi mandiamo Un abbraccio grande E a presto Ciao Un abbraccio grande Grazie mille Di tutto Grazie mille Grazie ancora Un abbraccio Un abbraccio Ciao 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 Grazie mille Grazie mille Sport Piceno Game Studio 7 TV L'intervista di Pietro Un cuore Un campione Ogni atleta Una storia Ogni momento Un'emozione Con coraggio E con determinazione Studio 7 TV E Sport Piceno Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Ore di campione Pieno di energie Il Sport Piceno Game Ci porta In una nuova dimensione Con passione E coraggio Siamo pronti a brillare E Studio 7 TV Ci guida Ad ogni pass Ad ogni sfida Ad affrontare Con orgoglio Con onore Siamo pronti a dare Il nostro meglio Con Pietro Come guida Il nostro spirito Non serve E mai Sport Piceno Game Studio 7 TV Intervista di Pietro Un cuore Un campione Ogni atleta Una storia Ogni momento Un'emozione Con coraggio E con determinazione